Salve a tutti e benvenuti da OttiaGM. Oggi un video un po' diverso dal normale, preciso che non voglio diffamare o sminuire nessuna professione, però analizziamo bene una certa cosa. Vediamo. Ultimamente in negozio mi stanno arrivando molte ricette di medici oculisti, con scritto oltre alla prescrizione medica, la gradazione e tutto, anche il tipo di lente da usare, sia lente oftalmica da occhiali che lente a contatto. In particolar modo, ultimamente mi stanno arrivando tante ricette dove c'è scritto consiglio lente multifocale. Ora, direte voi, mi consiglia una lente in più e tutto, però partiamo da un fatto che noi come ottici non possiamo fare patologia né niente, anche perché non siamo abilitati per fare quello e nemmeno abbiamo competenze per fare quello. Possiamo misurare a vista fino a certi parametri, quindi siamo legati da tanti punti di vista, però a livello di consegnare un occhiale, consigliare un occhiale, far provare tutte le tipologie di lenti multifocali e tutto come avevi visto in qualche altro video dove ho il sistema Clip System e posso far vedere lente progressiva office o dinamica, direttamente consigliare il miglior prodotto per il cliente spetterebbe a noi. Quindi ci arriva la gradazione dal medico oculista e noi di conseguenza ti consigliamo il tipo di occhiale e di lente oftalmica e fare o il tipo di lenti a contatto. Anche perché non hanno studiato la lente in sé per sé, infatti mi stanno arrivando tante ricette con scritto lenti multifocali, però una lente multifocale dice si la metti e la porti tutta la giornata, magari questo mi lavora otto ore davanti al pc, se guardate il video che ho fatto sulle lenti multifoali e le lenti office, vedrete la differenza. La lente multifoale è buona per tutta la giornata, ma quando siamo davanti a un pc abbiamo l'intermedio a questa altezza e staremo tutta la giornata in questa maniera. Quindi è consigliabile una multifoale appoggiata appoggiata a una office. Se guardiamo con questo che è il sistema clip system, le simulazioni che fa, vedremo una lente progressiva dove avremo il lontano, la parte per vicino e l'intermedio. Quindi davanti al computer, guardate la mia pupilla, per essere a fuoco, guardate dove devo essere, qua preciso, quindi stare con il mento alzato, cosa che una office invece ci permetterà di essere dritti normale perché qua avremo l'intermedio e qua sotto il vicino. Quindi questo risulta un grosso errore perché poi alla fine uno va davanti a un pc, lavora tutto il giorno al pc e ma ma consiglio alla progressiva risparmio perché faccio un occhiale solo e faccio tutto. E viene sbagliata e la colpa spesso la ricade sull'ottico. E queste sono quelle che mi arrivano per la maggiore. Un'altra tipologia potrebbe essere il discorso di lenti a contatto. Lenti a contatto si sa, ad esempio in miopia si abbassa leggermente i 0,25 la gradazione della miopia o dell'astigmatismo e tutto in ipermetropia si aumenta un 0,25. Ma non è sempre così. Bisogna vedere la curvatura dell'occhio, l'accumulo di larrima che può andare sotto la lente e da lì ci dice una gradazione o l'altra. Quindi una gradazione che si può stipulare dopo aver fatto qualche prova. E allora vediamo la gradazione giusta. Quindi non è sempre quello 0,25 e meno. Anche lì viene scritto molte volte. È anche vero che in passato colleghi mia hanno iniziato a fare lavori molto vicini agli oculisti. Hanno iniziato a fare cose di non loro competenza. Quindi può essere. Quello che voglio dire in questo video è che ognuno deve stare al proprio posto. Noi facciamo la parte della protesi visiva, ovvero dell'occhiale da vista o da sole graduato, lenti a contatto e tutto. E allora parte patologia, misurazione e tutto. A quel punto sarebbe una collaborazione perfetta tra oculista e ottico senza nessuno si pesta. Magari poi pensano e vai dal negozio di ottica non sanno che dirti. È vero, ci sono anche negozi che non sono tutta quella pubblicità. Però sta a voi valutare il negozio professionale o non professionale? Come si riconosce? Quando entra in un negozio professionale vi mette a sedere, vi fa provare gli occhiali e tutto e vi inizia a consigliare le tipologie di lenti. Soprattutto vi chiede che lavoro fate, che tipologia di uso fate, sport, lavoro. Insomma tutto quello nella giornata e vi consiglia le giuste lenti da mettere. Quando andrete a quello meno professionale, naturalmente vi dirà allora su questo c'è l'offerta 2x1, su questo meno 20%, su questo c'è 21, tutte offerte su e giù. Capite che già da voi, che provate 1, 2, 3 ottici, vedete, 3 in questa maniera, 4 invece vi propone, vi fa mettere a sedere tutto e vi propone una cosa giusta, sarà quello migliore. Bene, spero con questo video di aver fatto un attimo chiarezza, di esservi stato utile su determinate tematiche, perché effettivamente qui parliamo come ad esempio il dentista e l'odonto tecnico, quindi una cosa del genere, uno è il professionista, la patologia è tutto e quell'altro gli fa la protesi in sé per sé, quindi con i dati che gli ha dato uno, l'altro lavora la protesi alla perfezione. Sull'occhiale è la stessa identica cosa, secondo me, in questo caso. Bene, noi ci vediamo al prossimo video, seguitemi su Instagram, Facebook, sempre OTAGM e su www.TAGM.com e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!